Mi chiamo Paolo Serafino, sono specializzando della Federico II, sono estremamente soddisfatto del corso e del training GESEA qui presente a Napoli, al Policlinico di Napoli e consiglio a tutti i colleghi, giovani e non, che si vogliono approcciare alla chirurgia mininvasiva, il conseguimento del certificato europeo al fine di diventare degli ottimi chirurghi. Grazie. Sono Russo Mario, specializzando in ginecologia della Federico II, oggi è stata una giornata impegnativa ma felice di aver superato questa certificazione di primo livello del GESEA che è importante per chi si approccia alla chirurgia mininvasiva isteroscopica e laparoscopica. Grazie. Ciao, sono Rossella Dalisa, specializzando in ginecologia estetrica dalla Sapienza di Roma. Sono qui per la certificazione GESEA di primo livello, un'ottima opportunità per tutti gli specializzanti interessati all'area chirurgica di isteroscopia e laparoscopia. Ringrazio tutti i tutor che sono stati disponibili e gentili.